Oggi è sabato 27 luglio 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 27 luglio 1866. Tra Valencia Highland in Irlanda e Trinity Bay sull'isola di Terranova in Canada, viene completata la posa del primo cavo telegrafico sottomarino che attraversa l'oceano Atlantico. Da quel momento diventa possibile comunicare fra le due sponde dell'oceano tramite il telegrafo. Trasmettere un messaggio costa 5 dollari a parola. Il primo esperimento di posa di un cavo telegrafico sottomarino viene effettuato nel 1845 all'interno della Baia di Portmunt. Ma la società che lo realizza non riesce a passare ad una fase commerciale per carenze finanziarie. Cinque anni dopo viene posato da una società anglo-francese il primo cavo telegrafico sotto il canale della manica tra Dover e Calais. Rimane in funzione solo pochi giorni prima di essere interrotto, probabilmente dall'ancora di un pescatore. Appare quindi subito evidente la necessità di robustire e corazzare i cavi sottomarini per proteggerli dai pericoli causati dalla navigazione e dagli animali marini. Nel 1852 sono realizzate la prima linea diretta tra Parigi e Londra e la linea tra Inghilterra e Irlanda. Nel 1853 nasce la linea tra Inghilterra e Olanda. A partire dal 1920 si iniziano a installare cavi sottomarini adatti per la telefonia, ma la tecnologia necessaria viene completamente sviluppata negli anni 40. Il primo cavo telefonico transatlantico collega la Scozia e Terranova il 25 settembre 1956. Ha solo 36 canali voce, ma da quel momento è possibile parlarsi direttamente da una sponda all'altra dell'Atlantico e non solo inviare telegrammi. In verità, un primo tentativo di collegare le due sponde dell'oceano, sempre tra Irlanda e Terranova, viene fatto con molta difficoltà, tanto che si sospetta anche di sabotaggi, già otto anni prima di quello a cui viene attribuito ufficialmente il primato. Ma quel tentativo fallisce perché subito dopo la trasmissione del primo messaggio tra la regina Vittoria d'Inghilterra e il presidente degli Stati Uniti, James Buchanan, il cavo si guasta. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto per renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, dodici minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.